Vuole con determinazione la terza vittoria consecutiva in campionato, obiettivo possibile per il Campobasso di Rosario Pergolizzi che, battendo il Tivoli, atteso domenica all'Avicor Stadium, potrebbe continuare a scalare la classifica e a prodare in vetta. Campobasso reduce dall'importante successo di Sora, arrivato anche grazie alle parate del giovane portiere Manuel Esposito. Ci sono stati dei interventi fondamentali, però il merito è soprattutto della squadra, che con l'atteggiamento e la voglia abbiamo portato i tre punti a casa. Il portierino Scuola Vellino è uno dei protagonisti di un gruppo che ha saputo rimboccarsi le maniche e reagire con decisione, sfruttando anche il contributo di una tifoseria che con la categoria non c'entra nulla. Li ringrazio perché dove andiamo andiamo fanno la differenza e anche grazie a loro che vinciamo queste partite.